Sto arrivando con il termine d'autore. Ciao, uno, due, tre, uno, due, tre. Presidente. Eccoci qua. Ancora buonasera. Buonasera. Come va? Mi faccio io qualche domanda. Ti ricorda che... C'è attesa per il suo rientro, anche perché l'aspetta un vertice per decidere sulla TAV. Potremmo avere una risposta stasera o domani? Quanto c'è in gioco per il governo? Ci prenderemo il tempo che occorre, anche se vogliamo fare in fretta. Il Paese attende una decisione. Confidiamo, come ho detto ieri, di prendere questa decisione entro venerdì. Spero di completare questa sera, ma se non finiremo continueremo ad oltranza. Ma che cosa si aspetta dai suoi due partner di governo, che governano questa maggioranza? Che cosa può chiedere loro come messaggio in vista di questo vertice? Non devo chiedere nulla, perché non ho nulla da chiedere. Dico loro di sedersi al tavolo, come hanno sempre fatto in modo responsabile, ma non c'è bisogno che lo sottolinei e inviti loro a farlo. Ci sederemo tutti intorno al tavolo. Abbiamo tutti il medesimo obiettivo e interesse dall'inizio di questa esperienza del governo. Cercare di prendere le decisioni migliori nell'interesse del Paese. Il governo rischia? Rischia cosa, scusi? La tenuta sulla tavola. Il governo prende la decisione giusta e non vedo nessun rischio quando si prendono le decisioni giuste, ripetute giuste, ritenute giuste. Noi non lavoriamo con metodo, lavoriamo in modo trasparente e così sarà. Presidente, lei ieri ha incontrato il governatore Visco, avete parlato delle prospettive italiane nel medio e lungo periodo e magari anche della vicenda di signorini che con i 5 Stelle e anche la Lega avevano chiesto un cambio di passo. Vorrei chiarire, visto che molti hanno speculato su questo incontro, ipotizzando che l'incontro abbia avuto anche ad oggetto le nomine del direttorio della Banca d'Italia. Non ho parlato col governatore di nomine perché l'ho già dichiarato, rispettiamo anche le procedure di legge, rispettiamo l'autonomia e l'indipendenza di Banca Italia. A parlare di nomine col governatore significherebbe metterli in pressione per quelle che sono le sue prerogative. Noi, se vi riferite a signorini, la questione è nota, ci siamo riservati come governo di valutare, stiamo facendo qualche approfondimento per quanto riguarda le nostre valutazioni perché comunque è una procedura che rimette in ogni caso al governo comunque l'accettazione di queste nomine che sono di prerogativa di Banca Italia. Ma non è stato questo oggetto di conversazione ieri. Ieri c'è stato un incontro, l'avete anche voi reso noto, ma un incontro come ne sono già venuti altri in cui il Presidente del Consiglio con il governatore della Banca d'Italia scambia delle opinioni, delle valutazioni su quella che è la situazione economica interna, internazionale, su quelli che sono i trend del quadro economico e su questo noi abbiamo ragionato. Avete anche in quell'occasione magari escluso un'ipotesi di una manovra correttiva come già ha fatto altre volte? Non ho parlato con il governatore della Banca d'Italia di manovra correttiva, ho già escluso la necessità di una manovra correttiva e non è stato oggetto di discussione. Grazie. 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 Va bene così? E volevo una domanda in più, mi lasciate? Una domanda in più. Scherzo. Scherzo. No, l'ultima cosa. Palladone dei due cittadini è anche il giugno della legittima difesa, comunque è un'altra misura che comunque la Camera ha il via libera, per un passaggio tecnico al Senato. Lei ha ricordato che oggi è il giorno del reddito di cittadinanza, salutiamo questa nuova misura, oggi mi risultano, l'aggiornamento è 30 mila domande, pensate, in poche ore 30 mila domande, tutto sta filando liscio, siamo molto orgogliosi di questa misura, confidiamo quindi che la potremo attuare nei termini, in modo efficace, tempestivo. Abbiamo già detto che non ha una finalità assistenziale, faremo di tutto perché non l'abbia, l'abbiamo concepita su tre pilastri, occupazione, formazione e inclusione sociale. Oggi è un bel giorno da questo punto di vista. Quanto riguarda la legittima difesa, uniter parlamentare che sta andando avanti proseguirà. Volevo sapere cosa pensa dell'appello di Macron all'Europa e anche di questa scelta, forse un po' irrituale, di rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella per quanto riguarda l'Italia. Non è irrituale perché il Presidente Macron è Presidente della Repubblica, quindi può legittimamente dialogare e interloquire col Presidente della Repubblica italiana. Questo non significa che abbia scavalcato nessuno, noi parliamo con Macron, ci parliamo, ci parleremo, ci siamo parlati tante volte e continueremo a parlarci. Quindi non dovete leggerla in questi termini. Per quanto riguarda poi la sua lettera ai cittadini europei, credo che abbia opportunamente aperto un dibattito pubblico al quale anch'io vi, ecco questa è una notizia, parteciperò presto. Discuterà sul rischio populismi nella lettera che gli scriverà lei? Parlerò di Europa, di tutti i problemi dell'Europa, di tutte le prospettive europee. Grazie. Grazie. Grazie, buon rientro Presidente. Grazie.